La serrese Erika Scrivo, convocata con la nazionale italiana Paraciclismo, ha reagito di fronte ad ogni ostacolo che la vita le ha riservato senza mai abbattersi, senza mai chinare la testa e ora, dopo tanti sacrifici, ha finalmente coronato un sogno, quello della convocazione con la nazionale italiana Paraciclismo. L'atleta, serrese Erika Scrivo, della Restart Sport Academy, è stata infatti inserita nella lista dirammata dalla federazione. Gli hand bikers si sono ritrovati dal 28 marzo al 2 aprile a Francavilla, in Abruzzo, sotto la guida del collaboratore Pierpaolo Addesi. La squadra è stata diretta dal collaboratore tecnico Pierpaolo Addesi, designato dal CT De Candido, che si è avvalso della collaborazione di Francesco Parmeggiani e Arturo Rossi. Oltre ad Erika Scrivo, per la Restart Sport Academy, sono stati convocati Davide Cortini, categoria MH3, Tiziano Monti, MH5 e Giulia Ruffato, VH4. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano.